Abbiamo qua un grande campione Claudio Ciappuzzi, amico Tullio Badioli, presidente onorario della Gran Fondo Squali e stamattina andiamo a provare il percorso con Claudio e con gli amici e italiani e stranieri il percorso della Gran Fondo, le varie salite faremo lungo alcuni tratti e qualche consiglio poi da Claudio che ha già provato, è già venuto due anni fa qui a provare la Squali proprio in gara, giusto? È un percorso spettacolare, è un percorso comunque difficile perché non ha tanto respiro, sempre su e giù nelle colline ovviamente sono tante però se la giornata sarà bella, soleggiata, sarà una bella festa Speriamo, Tullio cosa ne pensi di questo? Siamo felicissimi di onorare la presenza, con la presenza del campione Ciappuzzi Sono emozionato insomma, dai, come uno giovane, come uno giovane che si emoziona la prima volta Quindi invitate tutti il 12 maggio alla Gran Fondo Squali Assolutamente, Gran Fondo Squali, 10, 11 e 12 maggio, mi raccomando, manca pochissimo manca, ancora sono aperte le iscrizioni, siamo per chiudere i 3.000 partecipanti ci vediamo il 10, 11 e 12 maggio, Gran Fondo Squali, Cattolica Gabbice Mare, vi aspettiamo Grazie